Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, buonasera da Alberto Fiano, esattamente lunedì 29 gennaio, ovviamente corrente anno, sono le ore 23 e 18 minuti, questa è la puntata numero 469 con la rubrica del sottoscritto Il punto sulla Roma, analisi post partita di ogni impegno ufficiale della AS Roma, il consueto appuntamento appunto post partita, si giocava per il Monday Night posticipo di questa sera Saleritana Roma, una partita insidiosa perché la Roma andava su un campo difficile, un campo molto caldo, un campo dove gioca una squadra che è impegnata nella lotta a salvezza, quindi con la cosiddetta bava alla bocca, la Roma in questo campionato in trasferta ha dato poche soddisfazioni ai suoi difusi e quindi era chiamata ad una prova convincente ma soprattutto a prendere tre punti contro una compagine tecnicamente inferiore per continuare quel discorso intrafreso otto giorni or sono col Verona all'Olimpico all'esordio di Daniele De Rossi in panchina e per continuare comunque la risalita in classifica in queste partite che sulla carta sono abbordabili ma poi c'è sempre da soffrire, da sudare, da combattere come è successo con il Verona, come è successo oggi anche a Salerno, però meno male che la Roma ci è riuscita, lo stesso identico punteggio con cui otto giorni or sono hanno battuto la formazione scaligera, Salernitana 1, Roma 2 e quindi la Roma ora si rilancia in classifica e sta a o meno 1 dal quarto posto. La Roma nel primo tempo cerca di iniziare bene la partita, alza il baricentro, cerca di imbastire delle trame offensive un po' come se era visto con lo stesso spartito canovaccio tattico con il Verona ma non riesce comunque a far male alla compagine della Salernitana poiché molto va messa in campo anche in fase difensiva e si guida bene, quindi poi un primo tempo anche giocato un po' sotto ritmo, tambo le squadre, la Roma rischia un pochino perché la difesa rispetto a come era con Giuseppe Murino la linea difensiva è leggermente più alta, fortuna vuole che con tutto il rispetto per il giocatore l'unica palla veramente pericolosa della compagine di Filippo Enzaghi capita su un lancio proprio attaccato alla profondità su Ciaona che entra in area ma poi il diagonale è debole, centrale e fortunatamente Rui Patriso fa sulla sfera. Nel secondo tempo la Roma cerca di partire con un piglio un po' più vivace intenzionata a guadagnare tre punti che sanno per lei essere fondamentali e quindi riesce poi a trovare il vantaggio grazie a un calcio di rigore netto per un fallo di mano di un difensore della Salernitana in pianaria che Dibala trasforma con la solita freddezza spiazzando il portiano a Ciova che ricordiamo comunque è uno specialista nel parare i rigori. La Roma passa in vantaggio e da lì la squadra si scioglie un po' di più, acquisisce un po' più di personalità, un po' più di coraggio, un po' più di verba anche, di fluidità di manovra, anche un po' più di velocità e infatti proprio con una trama veloce sempre ispirata da un grande Dibala riesce a pervenire all'addoppio con Capitano Pellegrini e portarsi sul 2-0. Quando la partita sembra fatta, ormai la pratica sembra chiusa, però purtroppo il classico errore un po' di deconcentrazione, la riapre con Kastanos che devia di testa in rete un pallone dove anticipa Christensen in netto ritardo, un altro difensore della Roma e anche lui Patrizio non ci sembra impeccabile perché si guarda un po' la sfera non tentando neanche di portarsi in tuffo per parare il colpo di testa a schiacciare all'angolino dell'attaccante di Filippo Enzaghi. Lì Zaleschi per il Ciarawi, tanto per dirne una che riportando poi Zaleschi alla sua posizione originaria con cui anche nella Roma prima era sbocciato e quindi tento un po' di arginare questa voglia di rimonta appunto della Serenitana, si soffre ma la Roma anche qui dimostra comunque di saper soffrire, di avere quegli attributi, quella coesione anche di squadra a livello proprio di spirito, di essere un'unità di intenti e portare a casa tre punti fondamentali e importantissimi per il morale, per proseguire a lavorare al meglio ed anche per la classifica e così missione compiuta. Ovvio Daniele De Rossi ha ancora molto da lavorare ma già comunque si comincia a travedere un po' la sua mano su certe dettami tattici e anche perché no emotivi della squadra che anche di testa sembra un po' più libera rispetto nelle ultime esibizioni di quando c'era Giuseppe Morigno. Ora il prossimo appuntamento è fra sette giorni esatti, un altro Monday Night, stavolta all'Olimpico, Roma-Cagliari per lunedì 5 febbraio ore 20.45 dove appunto il Cagliari di Claudio Ranieri, un altro grande ex amato dal pubblico gioco rosso farà visita all'Olimpico per un'altra battaglia perché ci sarà da soffrire e combattere ma bisogna anche lì prendere tre punti fondamentali per far sì che si prosega questa rincorsa al quarto posto e per poi andare anche più libri di testa senza troppe pressioni al Big Match di sabato 10 febbraio ore 18 contro l'Inter qui allo Stadio Olimpico sempre però ovviamente ora ti si gode questa vittoria e domani si pensa a Cagliari, si va avanti partita per partita come è giusto pensare appuntamento dopo appuntamento. Chiudo con due interventi il primo ricordando il più grande bomber della storia del calcio italiano ossia della nazionale che ancora detiene il record di gol Gigi Riva scomparso a 80 anni il cosiddetto celebre rombo di tuono quindi onore che riposi in pace questo grande campione e poi facendo i complimenti a quello che ormai ha solo i 22 anni una realtà un campione del tennis italiano e anche mondiale Yannick Singer che dopo 48 anni riporta un trofeo dello Slam, l'Australian Open in Italia ossia l'ultimo che vinse lo Slam era appunto Adriano Panatta con una strepitosa rimonta ai danni di Medvedev Medvedev da 0-2 a 3-2 e quindi anche il tennis italiano finalmente dopo anche la conquista recente della Coppa Davis torna ai fasti di un tempo che tutti ci auguriamo possano proseguire. Detto ciò io vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio il mio amico Roberto De Angelis per la sua consueta gentilezza che mi concede sulle sue frequenze radiofoniche ringrazio voi che mi avete ascoltato in diretta e chi mi ascolterà in podcast registrato vi auguro una buona notte una buona settimana e vi do appuntamento per Roma Cagliari post Roma Cagliari lunedì prossimo sempre intorno alle ore 23.15 23.30 qui sulle frequenze di RDA Radio 1 speciale trasmissione insert questa è la Roma con il punto sulla Roma del sottoscritto Alberto Fiano ciao buonanotte e ovviamente chiudiamo come sempre con l'immancabile DAIE Roma DAIE